Non solo sul campo dell'alimentazione, ma anche sul campo per esempio oncologico. Umberto Veronesi da parecchio tempo sostiene come l'alimentazione sia importante. Per questo mi riferisco... Ecco, lei l'ha dimostrato. Sosteneva di aver dimostrato come curare le malattie oncologiche con la dieta macrobiotica Mario Pianesi in questo video del dicembre 2016. Ma era solo una delle tante falsità con cui circoiva i suoi adepti. Migliaia, secondo la polizia, che oggi lo ha scritto nel registro degli indagati. Insieme a lui, anche la moglie e altri due uomini della segreteria dell'associazione che lui stesso aveva fondato. La UPM, acronimo di un punto macrobiotico, riferimento di quella cultura che vieta di assumere uova e latticini, obbliga a ridurre le proteine e combatte i prodotti confezionati. Principi che sarebbero anche buoni, ma che esasperati espongono invece a forti rischi per la salute. Il rischio, ad esempio, in una dieta di questo tipo è di ridurre troppo le proteine animali. Che cosa produrrebbe? Beh, se si abbassano troppo le proteine animali, il rischio è quello, ad esempio, di una sarcopenia, quindi di perdita di massa muscolare. E noi sappiamo bene che questo, soprattutto in età adulta, può portare ad un rischio maggiore di incidenza di patologie. Ed eccoli gli effetti dell'esasperazione della dieta imposta dalla setta macrobiotica. Questa ragazza è arrivata a pesare 35 chili dopo aver seguito i consigli del sedicente dottor Pianesi, che aveva una laurea ad honorem arrivata dalla Mongolia, ma che in Italia possedeva solo la licenza media. Le indagini per smascherarlo hanno avuto inizio nel 2013, grazie alla denuncia di una ragazza vittima della setta. La polizia ipotizza siano decine, per lo più ragazzi tra i 20 e i 30 anni, emotivamente fragili, che gli indagati manipolavano psicologicamente, prima attraverso il rigido controllo dell'alimentazione, poi portandoli a negare il mondo esterno, soprattutto medico, fino poi a convincerli anche ad elargire denaro all'associazione e a renderli schiavi dell'impero macrobiotico di punti vendita e ristoranti che la setta negli anni aveva tirato su.